Ah, questo è il Made in Italy, no? Abbiamo oltre 2 miliardi all'anno di costi da danni a eventi atmosferici e non capiamo che se noi impiegassimo queste risorse per fare la messa in sicurezza avremo dei territori più sicuri, più competitivi, immaginate solo gli nostri imprenditori e potremmo anche nel tempo risparmiare molto di più. Ma sono tutti i tempi per una globalisca nazionale? Beh, lo erano nel 2008, quando ero al governo nel 2008 come ministro parlavamo di una polizza assicurativa per i 60 milioni di cittadini. Altri paesi lo fanno, le assicurazioni la considerano allettante nel momento in cui sono tutti ad avere la polizza. In Chiave Veneta non sta in piedi, abbiamo incaricato proprio un broker per fare questo studio, questa analisi nel 2010, non sta in piedi, nel senso che se obbligassimo anche tutti i veneti ad assicurarsi, l'assicurazione creerebbe tutto un sacco di vincoli per cui non conviene assicurarsi. La vera partita è che per avere un vero indennizzo, non aver franchigia e non prenderci in giro, bisogna che la polizza sia una polizza che abbia un bel bacino di abitanti, 60 milioni di italiani sono un buon bacino. Questa è anche l'alluvione, la catastrofe di molte opere pubbliche che se ne sono andate, che sono ammalorate, che sono oggetto di smottamenti, di frane e questo è quello che pesa molto.